Ciao a tutti amici di Radio Francigena, siamo qui a Casamari, vi raccontiamo un pochettino quello che sono stati questi due giorni di lavoro che ci hanno portato, come vi abbiamo un po' anticipato ieri, a rimanere in questo splendido luogo per altri due giorni consecutivi. Buongiorno, siamo al convento delle scuole cistercensi, come avete potuto vedere c'è anche la scuola dell'infanzia, quindi è un luogo dove veramente si giunisce sia un momento di preghiera sia un momento di condivisione tra tutti, tra bambini, tra grandi, tra piccolini. Abbiamo visitato tutta Casamari per poco tanto che c'era da vedere, la battia, il convento, qualche locale, siamo andati a Castelliri, siamo andati a Isola dell'Iri, grandissima, abbiamo avuto anche l'opportunità di incontrare parte dell'amministrazione comunale che ci ha accolto veramente a braccia aperte per questo Saber Universal Project e siamo passati anche dalla variante per San Domenico. È stata una giornata veramente lunga, abbiamo trovato tanta disponibilità da parte di persone, da parte delle accoglienze e se vogliamo proprio dirlo anche qualche schiaffo in faccia, perché qualcuno non ha voluto proprio darci subito retta, però insomma noi insistiamo per far comprendere anche l'importanza di questo progetto e alle volte riusciamo a, come dire, ad averla vinta. Però quello che vogliamo raccontarvi oggi è tutt'altro, è come siamo stati accolti magnificamente in questi due giorni da Suor Giuliana e dalle sue sorelle in questo splendido luogo. Quindi Suor Giuliana io veramente in questi due giorni sono stato benissimo perché abbiamo riso tanto, ci siamo divertiti, quando siamo arrivati qua pioveva e non sapevamo cosa avremmo trovato, invece abbiamo trovato veramente un posto dove ci siamo sentiti a casa. Quindi invitiamo tutti quanti a venire via a trovare perché come siamo divertiti noi si possono divertire anche tanti altri. Grazie, io intanto ringrazio anche Pietro con Claudio e anche mamma e papà che avete fatto la prima tappa pur non conoscendovi, però noi siamo fatte anche se non conosciamo, accogliamo, quindi avete potuto notare questo. Io intanto saluto a tutti quelli della mia frangigia e ringrazio già se vengono qui nella nostra struttura, quindi più di questo hanno posto un saluto, una buona giornata e quindi vi aspettiamo. E vi aspettiamo, esatto. Quindi salutiamo gli amici di Radio Francigena. Ah, di Radio Francigena. Allora, un saluto a tutti gli amici di Radio Francigena. Ciao, venite a Casa Mari e venite al convento delle sue cittaccenze. Grazie Pietro. A voi. State ascoltando Radio Francigena.